Ciao a tutti e a tutti sono sempre io E oggi sono qui per fare una cosa che non ha mai fatto nessuno su youtube Almeno per quello che ho visto io Cosa andiamo a fare oggi? Andiamo a fare un prova a non ridere su Tiziano Crudeli Per chi non lo conosce è un telecronista pazzo Ma davvero pazzo Non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito PS nei commenti scrivetemi delle penitenze da fare se perdo questa challenge Iniziamo Iniziamo bene Siamo ancora all'inizio raga No è un pazzo Ma che fa? Ma cosa fa? No vabbè è impossibile non ridere No vabbè È un pazzo Grazie Marchini E allora dov'è mio fratello di latte? Mamma che... Palla dentro Ma che cosa? Sì vabbè Miracolo No vabbè è un pazzo Sì abbracciamo tutti Sì abbracciamo tutti No vabbè No vabbè È un pazzo Questo secondo me si truca prima di fare le telecronache 10 minuti fa 10 minuti fa 10 minuti fa 10 minuti fa 2-2-ının Perché questi la f arada Che ti scappa è i gol Goal La grida E vabbè manca solo che piange ragazzi che fai a ciappolo? eeeh gol 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 roma mette pote roma ciao roma gol 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 è entrata! è gol del Milan è entrata! è entrata! è entrata! go 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 miau! 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 è del gol! ho già aperto a prescindere miau! miau! ma cosa miau! 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 la partita è finita! 2 a 2 no! questo è il momento più epico no! no! vabbè! 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 piange addirittura! ed è gol! oh Gesù! vabbè! aiutatelo! bellissima! no! vabbè! andiamo! 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 è unico! ibra! ibra! gol! 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 bo! bo! ten! questa è storia raga! bo! bo! ten! 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 ed è gol! bo! ten! una salsata sotto la traversa! gol! 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 si! vai! gol! 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 che cacchio fa? gol! gol! tropigno! ma che cacchio fa con quel microfono? gol! 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 che abbraccia oggi! gol! gol! cioè lui ha la magia di abbracciare tutti! gol! 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 e allora adesso venitemi a dire che è stato casuale! che sono dei blocchi quelli! altra parte la difensiva! vergogna! vergogna! 3 a 0! 3 a 0! 3 a 0! non vergogna lecce! vergogna mila! difesa impresentabile! Zappata ha altro errore! eeeh! verga! Zappata! oh! bo! tiro! gol! 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 no vabbè! gol! 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 gol!! .. gol! ecco impazzisce impazzisce questo diventerò una meme anzi è già diventato una meme abbiamo capito vabbè ripetiamo si emoziona pure grazie grazie pippo grazie veramente rimarrà nella storia grazie grazie col cuore col cuore ti dico grazie oh mio dio rimarrai sempre nel nostro cuore al di là della rettoria ok ok 2 a 0 per i rossoneri l'ho persa questa challenge c'è veramente un pazzo crudeli un pazzo oh mio dio veramente rimarrà nella storia c'è chi dimentica è complice va bene raga dire di chiudere qua questa challenge scrivetemi nei commenti la penitenza se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale mentre poi ci facciamo a facebook trovate i link in descrizione e altri social e niente noi ci vediamo in un prossimo video bella a tutti raga bella